Radio Radicale, siamo col senatore Larussa al termine della conferenza dei capigruppo. Allora, che cosa avete fatto oggi? Avete stilato il calendario di settembre o vi siete occupati? Ci siamo occupati del calendario di settembre, oggi la riunione era su questo, si è parlato anche dei lavori di oggi e di domani, si è parlato soprattutto del provvedimento sullo sport per il quale è stata distribuita una lettera del CIO che ci fa presente che con l'approvazione di questa legge corriamo il rischio di non poter utilizzare la bandiera italiana ai prossimi giochi olimpici ma di dover correre senza un riferimento alla nostra nazione. Aspetta, Simone, vieni che c'è Nastri al telefono. È preoccupato per questa lettera, allora si tratta di una legge delega, questo imporrà di esaminarla con più calma a settembre? No, la maggioranza ha deciso che comunque ne discuteremo oggi. Sì, per quanto riguarda settembre quali saranno i primi provvedimenti? Voglio sapere se ci sono delle riforme costituzionali che esaminerete. La prima riforma costituzionale che esamineremo non è di grandissimo rilievo riguardo il referendum o cose del genere. I primissimi provvedimenti non sono tra quelli più attesi, diciamo. Bene, grazie. Sì, 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 ci sentiamo dopo. È stata delicata. Scusate, non so, lo so, ma se lui, se lui, se lui va via. Sì, sì.